Salvini è qua insinuato tra noi e sta dormendo sulla sdraia, sì, sta dormendo, non lo so cosa sta succedendo qua, se perdi il polso della situazione è mica colpa mia, qua sta avvenendo questa roba qui, questo mischiarsi di cose che non era mai successo su questa spiaggia qua, fai qualcosa, cosa fai a Milano Maritmo? Vieni qui, vieni qui in Sardegna, guarda cosa sta succedendo, è sulla sdraia e dorme, da stamattina che dorme sulla sdraia, vado io a vendere adesso le borse, cosa faccio? Arrivi? Salvini va nell'acqua, fanno il bagno così, Salvini per favore, non so se anche a Milano Maritmo succede questo, ma qua ormai il fenomeno è incontenibile, fai qualcosa, lo dico a Luigi, ragazzi, bambini venite fuori dall'acqua per favore. Salvini, ma beve, beve al bar, bevono qui come lui al bar, una tonica, ha ordinato una tonica così come fosse, ma io non so se fai qualcosa veramente perché la situazione ti sta scappando di mano, chiamano Luigi, ma Luigi è buono, Luigi è buono. Salvini sono in due, Salvini sono in due. Ma io sono una lavoratrice nera, sono anche nera.